In questo video andremo a vedere come installare Windows 10 da DVD Nel mio caso lo andrò ad installare su una macchina virtuale Quindi non su un sistema operativo, quindi non su un computer reale Ma su uno virtuale all'interno di Windows Comunque il procedimento per installarlo è lo stesso Quindi accendo il mio computer Ovviamente inserisco il DVD all'interno del lettore Al suo avvio mi chiede di premere un tasto per avviare da CD o DVD Ovviamente premo un tasto, nel mio caso ho premuto invio Potete premere ovviamente qualsiasi tasto E abbiamo la schermata di caricamento di Windows 10 Potrebbe richiedere un po' di tempo Ovviamente questo dipende dal sistema operativo Cioè scusate, dalla configurazione hardware in uso Quindi dal processore, dalla RAM Da tutti i componenti che abbiamo nel computer Nel mio caso essendo una macchina virtuale È ancora più lenta rispetto a un computer reale Quindi il tempo richiesto potrebbe essere un po' di più Ok, è partita l'installazione A questo punto abbiamo come prima schermata La possibilità di impostare una lingua Il formato dell'ora e della valuta locale E il layout della tastiera Ovviamente essendo in Italia è impostato tutto su italiano Clicchiamo su avanti Qui abbiamo la possibilità di o ripristinare un computer Ma nel nostro caso stiamo eseguendo semplicemente una nuova installazione Quindi non abbiamo bisogno di ripristinare un computer Su cui già era presente una versione di Windows Quindi andiamo semplicemente ad installare la nostra versione di Windows A questo punto il software ci avvisa che sta avviando il programma di installazione Dobbiamo semplicemente attendere Avviata l'installazione La prima cosa che ci viene chiesto È di inserire il product key Cioè il codice di attivazione del nostro sistema operativo Il codice di attivazione lo trovate sulla scatola del sistema operativo di Windows Nel mio caso come detto visto che non sto installando su un computer reale Ma su una macchina virtuale Semplicemente ignoro questo punto Perché non ho bisogno di attivare Windows Perché ovviamente lo sto semplicemente testando Perché ovviamente la versione di Windows ce l'ho attiva sul computer reale Quindi sulla macchina virtuale non inserisco il product key Ma clicco su ignora Ovviamente ignorando L'installazione proseguirà lo stesso Il sistema operativo sarà funzionante lo stesso Ma avrà una data di scadenza Perché avremo credo 30 giorni per poterlo attivare A questo punto Ovviamente in questi 30 giorni possiamo usarlo tranquillamente Senza problemi Dopo la data di scadenza verrà bloccato E ci verrà richiesta l'attivazione A questo punto abbiamo le condizioni di licenza Le accettiamo e clicchiamo su avanti Qui possiamo scegliere se Installare Windows e mantenere i file in caso di un aggiornamento Oppure personalizzare Quindi installare Windows In questo caso possiamo personalizzare l'installazione La prima opzione è l'aggiornamento E funziona solamente se abbiamo già Windows installato Nel nostro caso non abbiamo Windows installato Quindi clicchiamo su personalizzata A questo punto ci mostra il disco rigido sul quale dobbiamo installare Windows Nel mio caso ho allocato 80 GB di spazio per l'installazione Va benissimo questo disco Quindi seleziono l'unico disco che ho presente E clicco su avanti Ora parte l'installazione di Windows Durante la quale verranno copiati i file E già il primo punto è stato fatto Preparare i file per l'installazione Quindi andrà a estrarre tutti i file che ha copiato E li installerà Dopo averli preparati passerà all'installazione delle funzionalità Quindi andranno attivate tutte le funzionalità di Windows Poi passerà all'installazione degli aggiornamenti Per poi terminare l'installazione A questo punto direi che da qui fino alla fine dei passaggi Salto tutto Tanto non dovremo intervenire più su nessun passaggio Dobbiamo semplicemente aspettare che questa procedura sia finita Ovviamente per non farvi aspettare che finisca tutta la procedura Semplicemente la salto In modo tale da abbreviare sicuramente la durata di questo video Quindi ci vediamo a fine installazione Quindi riprenderemo quando sarà arrivato al 100% Ok ho riavviato il video Perché l'installazione è terminata Al termine di installazione il sistema operativo ci chiederà di riavviarlo Possiamo cliccare su riavvia ora o aspettare che finisca il countdown Una volta finito si riavviera il sistema A questo punto avendo ancora il CD inserito Avremo di nuovo la possibilità di premere un tasto per avviare da CD Ovviamente non dovremo avviare da CD in questo caso Perché dobbiamo avviare da sistema operativo Cioè da hard disk ovviamente Adesso che abbiamo installato il sistema operativo Dovremo andare a configurarlo Quindi ci troveremo davanti a varie scelte di configurazione Non ancora niente Ok questa parte la lascio per farvi vedere le varie fasi in cui passa l'installazione Anche perché non è troppo lunga Quindi sono forse 1 o 2 minuti al massimo di video Quindi sicuramente lascerò questa parte A meno che ovviamente poi non diventi troppo lunga In quel caso taglierò le parti troppo lunghe Ok terminata la fase preliminare Il sistema si riavvia di nuovo A questo punto dobbiamo semplicemente aspettare che il riavvio sia completato Per poter poi passare alla fase successiva Ok a questo punto il sistema operativo si riavvia Ci viene chiesto di nuovo di inserire il codice prodotto In questo caso come detto se lo abbiamo inseriamolo Altrimenti clicchiamo su più tardi Possiamo modificare a questo punto le impostazioni di Windows Se vogliamo usare quelle che ci ha fornito già Microsoft Possiamo semplicemente cliccare su usa impostazioni rapide Altrimenti se vogliamo vedere quali sono comunque le impostazioni Che stiamo andando ad accettare Clicchiamo su personalizza impostazioni Qui possiamo vedere che ci sono varie impostazioni Quindi riconoscimento vocale Inviare a Microsoft i dati sulla digitazione Consentire alle app di usare l'ID annunci E consentire a Windows e altre app di richiedere la posizione Direi che possiamo lasciare tutto attivo e cliccare su avanti Passiamo poi alle impostazioni per quanto riguarda il browser e la connettività Quindi possiamo scegliere se usare smart screen per proteggere il sistema dei contenuti Consentire di usare la previsione della pagina per migliorare la lettura Per quanto riguarda invece la connettività e la segnalazione errori Possiamo scegliere se connettere automaticamente agli hotspot aperti suggeriti In questo caso ci avvisa che non tutte le reti sono sicure Io vi consiglio di disattivare questa opzione Ovviamente se stiamo installando Windows su un PC desktop senza la connessione Wi-Fi Magari questo non ci interessa Se lo stiamo installando su un portatile Che poi comunque ovviamente porteremo in giro E c'è il rischio che possa connettersi a degli hotspot O a delle connessioni non sicure Vi consiglio assolutamente di disattivarlo Possiamo anche impostare Di connetterci automaticamente alle reti condivise dai contatti In questo caso Anche in questa impostazione non è proprio sicura al 100% Però comunque ci connettiamo solo Alle reti dei nostri contatti Quindi già comunque più sicura rispetto alla prima opzione Quindi possiamo lasciarla attiva Per quanto riguarda l'ultima opzione Possiamo inviare a Microsoft Errori e informazioni Su errori e diagnostica Quindi funzionamento del sistema operativo Questa è a discrezione Quindi se volete inviare le informazioni su errori a Microsoft Lasciate l'attiva Altrimenti potete disattivarla Clicchiamo su avanti A questo punto il sistema viene riavviato nuovamente Questo per poter configurare Quindi impostare le impostazioni che abbiamo appena selezionato Va detto che durante l'installazione I riavvii del sistema operativo sono davvero tanti Probabilmente alcuni non so quanto giustificati Avrebbero potuto magari unire più impostazioni E permettere quindi meno riavvii Però va bene Hanno deciso comunque di impostare così l'installazione di Windows E quindi così funziona Così faremo Ok abbiamo riavviato Cioè si è riavviato da solo in realtà E possiamo quindi proseguire con l'installazione Quindi sta ancora configurando A questo punto ci viene chiesto a chi appartiene questo computer Quindi se è un computer di un'azienda o di un istituto E quindi viene configurato come un dispositivo di un'organizzazione Oppure se è un dispositivo personale Con il quale possiamo usare un account Microsoft Quindi impostiamolo su appartiene a me E andiamo avanti A questo punto possiamo inserire il nostro account Microsoft Che ci permetterà poi di utilizzare alcune impostazioni del computer Che altrimenti non sono disponibili con un account normale Come ad esempio il download delle app dallo store Che può essere fatto solamente con l'account Microsoft Quindi se avete un account Chiocciola Hotmail Chiocciola Live Chiocciola Outlook Potete inserirlo qui E configurarlo quindi associarlo al vostro sistema operativo Se non lo avete potete crearne uno Se non volete utilizzare un account Microsoft E quindi volete utilizzare un account locale Come succedeva con le vecchie versioni di Windows Basterà cliccare su ignora questo passaggio Qui ora infatti ci viene chiesto di creare l'account locale Io creerò l'account Claudio Potete inserire una password Se volete ovviamente la password renderà il vostro sistema operativo più sicuro Perché ne bloccherà l'accesso a chi non possiede requisiti Quindi chi non sa la vostra password non potrà entrare nel sistema operativo Nel mio caso come detto Visto che lo sto installando su un computer virtuale Quindi su una connessione virtuale Non mi interessa che sia presente una password Quindi cliccherò su avanti Come detto questa è un'installazione solo di prova Quindi non l'andrò poi ad utilizzare realmente Quindi non mi interessa che sia protetto da una password Dopo aver impostato queste impostazioni Il computer passerà alla fase di configurazione Quindi Windows andrà a configurare tutte le app e i software già installati Quindi adatterà le loro impostazioni Alle impostazioni che noi abbiamo inserito durante la fase di installazione Quindi la lingua italiana Nel caso in cui avessimo inserito un account Microsoft Collegherà le app all'account Microsoft Nel caso in cui avessimo scelto di non condividere il nostro ID con le app Lo disattiverà Quindi in questa fase va a configurare tutte le impostazioni Che noi siamo andati ad inserire finora Ok, al termine della configurazione Parte la scritta iniziamo E abbiamo quindi il nostro desktop La prima cosa che ci viene chiesta è la connessione di rete Quindi vuoi consentire al tuo PC di essere individuabile Per altri PC e dispositivi nella rete Nel caso in cui usiamo una rete domestica Quindi in casa abbiamo diversi sistemi In casa possiamo scegliere di sì Se invece siamo su una rete pubblica Quindi magari ci stiamo connettendo a una rete universitaria Quindi siamo all'università e stiamo connettendoci al loro Wi-Fi Oppure in un locale Quindi ci stiamo connettendo al Wi-Fi di un locale Sconsiglio di renderlo individuabile Quindi di cliccare su no Ovviamente se cliccate su no su una rete domestica Non cambia niente Semplicemente gli altri computer della vostra rete Non vedranno il vostro Quindi non potrete scambiare i file tra i due computer Quindi non potrete vederlo direttamente dal vostro computer Ovviamente potete scambiare i file in altri modi Quindi potete inviarvi email o altri metodi Quindi per quanto mi riguarda al momento seleziono no Perché non mi interessa che questo computer Sia individuabile nella mia rete domestica Quindi clicco su no Per chi non ha mai usato Windows 10 E viene magari da Windows XP Da Windows 7 Ci sono alcune grandi differenze Rispetto ai vecchi sistemi operativi La prima è l'area di notifica Infatti troviamo qui in basso Intanto cambio la risoluzione Dello schermo Vado ad aumentare un po' la risoluzione Al momento è 1024x7,68 L'ho imposto a 1920x1080 Vediamo se Ok ripristino Allora la risoluzione del mio monitor è 1920x1080 Non posso impostarla così Perché essendo all'interno di una macchina virtuale Ho la barra in alto Che quindi mi copre parte Dello schermo Quindi imposto 1000 Ancora non va bene Impostiamo a 1080x1024 Ok Manteniamo questa risoluzione Non è a schermo intero Però sicuramente è più grande rispetto a prima Come detto Di fianco all'orologio abbiamo questa icona Delle notifiche Che se ci clicchiamo Ci apre il centro notifiche Nel quale troviamo tutte le notifiche Che ci arrivano da Windows Quindi da qui Possiamo anche portarci sulle impostazioni Quindi se clicchiamo su tutte le impostazioni Possiamo andare a modificare le impostazioni Del nostro sistema operativo In questo caso mi dice che Windows non è attivato Perché come detto non ho inserito il codice seriale Che se non lo avete inserito Potete tranquillamente cliccare qui E inserirlo da qui L'ultimo passaggio che vi voglio far vedere Prima di chiudere questo video È come aggiungere l'icona computer al desktop Intanto possiamo vedere che il tasto start Se ci clicchiamo Ci fa vedere tutte le app che abbiamo installate Quindi qui le più usate E cliccando su tutte le app Possiamo vedere tutte le app che abbiamo installato sul nostro computer Come detto abbiamo lo store Dal quale possiamo andare a scaricare ulteriori app Ovviamente solo a patto che abbiamo l'account Microsoft collegato Quindi con un account locale non è possibile farlo Detto ciò per andare ad impostare le icone del desktop Clicchiamo su impostazioni Personalizzazione Temi Qui abbiamo la voce impostazioni delle icone del desktop Nel mio caso non è cliccabile perché non ho ancora attivato Windows Quindi non avendo attivato Windows non posso personalizzarlo Però Se voi avete già inserito il vostro codice prodotto Da qui potete andare ad attivare l'icona computer sul desktop Questo è tutto quindi per quanto riguarda l'installazione di Windows Ovviamente nel mio caso ho installato Windows da CD Quindi non sono presenti tutti gli aggiornamenti Per fare gli aggiornamenti dovrete andare su impostazioni Aggiornamento e sicurezza Windows update E da qui partirà l'installazione di tutti gli aggiornamenti di Windows Infatti se vedete nel mio caso già si stanno scaricando Quindi già è al 77% del download dei miei aggiornamenti Quindi una volta terminati gli aggiornamenti verranno installati E la versione di Windows verrà portata alla 1809 Quindi come detto questo è tutto per quanto riguarda l'installazione di Windows Se avete delle domande, dei chiarimenti, dei dubbi Fatemi le domande nei commenti Quindi commentate qualsiasi cosa Come sempre se il video vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici Mettete mi piace e condividetelo E per questo video è tutto Grazie e ci vediamo al prossimo